Cari amiche e cari amici, Francesco Lamedola, il ritorno trionfale degli eretici, Leonardo Boff. Parlando dei suoi maestri e dei suoi teologi preferiti, Bergoglio fa spesso riferimento al cardinale Walter Kasper, a sua volta discevolo diretto del discusso Karl Rahner e dell'eretico Hans Küng, e al sedicente monaco Enzo Bianchi, divenuto figura di primo piano alla corte del signore argentino, pur non essendo nemmeno sacerdote, cosa che non ha impedito al suo illustre discepolo di carezzare l'idea di farlo vescovo e magari cardinale. Tuttavia, accanto a loro e più di loro, sul pensiero teologico, se possiamo chiamarlo, di Bergoglio, ha influito l'insegnamento di un teologo sudamericano che qualche decennio fa ha avuto il suo spettacolare momento di gloria negli ambiti ultraprogressisti della Chiesa e specialmente nell'ambito della teologia della liberazione, della quale è stato considerato una delle voci più autorevoli. Il brasiliano Leonardo Boff, classe 1938, autore di oltre 100 libri, ex frate francescano, ex sacerdote, ex perché oggi vive felicemente con una compagna, Marcia Maria Monteiro, e con i loro sei figli adottivi, dopo aver lasciato l'ordine e il sacerdozio nel 1992, punto d'arrivo di un lungo contrasto con la Chiesa che aveva conosciuto la svolta decisiva del 1984, quando aveva dovuto presentarsi a Roma davanti al prefetto della congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger, per giustificare alcune sue posizioni ritenute incompatibili con la dottrina cattolica e con lo stato sacerdotale. Quali posizioni, esattamente? Ci limiteremo a dire che Boff era e è sempre stato estremamente critico verso la gerarchia ecclesiastica, da lui ritenuta una struttura di potere, ha sempre messo gli uomini, più precisamente i poveri, al centro della sua teologia. È sempre mostrato la tendenza a delineare una teologia facente perno sui temi dell'ambientalismo. È favorevole al sacerdosio femminile? È stato un sostenitore del presidente di sinistra Lula, De Silva, quello per intenderci che negò all'Italia l'estradizione del terrorista Cesare Battisti, salvo poi di staccarsene, perché lo giudicava troppo moderato. Infine, ha sempre mostrato una spiccata simpatia per il marxismo, tanto che dopo il 1992, passato tranquillamente ad insegnare in un'università statale, si è accreditato come uno dei maggiori teorici marxisti all'interno della cultura brasiliana odierna. Ebbene, sono tutti temi costanti nella pastorale, si fa per dire, del signor Bergoglio. I poveri, ambiente, donne, sinistra, la critica incessante al clericalismo e al conservatorismo della chiesa, vista quasi come un'entità nemica, una cittadella da prendere d'assalto. Su Ratzinger, il giudizio di Boff era molto duro, perché lo accusava di concepire una chiesa fuori dalla storia. Ma anche il giudizio su Giovanni Paolo II era duro, perché a suo parere aveva tradito il famoso spirito del concilio, tentando di riportare la chiesa su posizioni preconciliari. Sta di fatto che Bergoglio ha sempre parlato con stima e simpatia di questo ex francescano ed ex prete, tentando in ogni modo di riabilitarlo. Per dare un esempio delle idee di Leonardo Boff, all'epoca in cui era particolarmente in auge, ecco cosa scriveva verso l'inizio degli anni settanta sul tema della speranza cristiana. La speranza si fonda esattamente sulla differenza tra quello che già è e quello che ancora non è, ma è possibile. In quanto la speranza vede il futuro e il regno già presenti in mezzo a noi, nel bene, nella comunione, nella fraternità, nella giustizia sociale, nella crescita veramente umana dei valori culturali, nell'apertura dell'uomo al trascendente. Essa ha motivi per celebrarlo e festeggiarlo nella gioia serena e nel tranquillo godimento della sua manifestazione. Solo la fede cristiana ci permette di gustare Dio nella fragilità umana e di festeggiarlo nella caducità della figura di questo mondo che passa. Questa critica conferisce libertà al cristiano. Tutto è relativo in questo mondo. Si è paragonato a Dio e a ciò che egli ci promette. È relativa alla Chiesa, con i suoi dogmi, sacramenti, gerarchie. Sono relativi i valori culturali, morali. Relativo lo Stato, con tutta la sua prepotenza, istituzioni, ideologia. Con ciò non si vuol dire che questa realtà terrena non abbia importanza e se sono importanti, poiché in esse troviamo mediato l'assoluto. Ma non sono l'assoluto e non possono esigere totalmente il cuore dell'uomo. Questo è stato fatto solamente per Dio. Lui solo risponde pienamente agli aneliti profondi dell'uomo. Ecco, crediamo che questa pagina basti e avanzi per capire il genere di cristianesimo di Leonardo Boff e che tipo di teologia sia la sua che pure gli ha dato un momento di grande celebrità mezzo secolo fa, quando era considerato una delle figure di spicco della teologia di liberazione e di tutti i cattolici progressisti. Non solo in America Latina, anche in Europa, gli riconoscevano un ruolo di primo piano nel preteso processo di rinnovamento postconciliare. Cominciamo partendo dal fatto che il suo discorso ruota attorno alla speranza, ma francamente non si capisce a che tipo di speranza si riferisca, non solo perché la scrive con la lettera minuscola, ma per come la descrive. Si direbbe proprio che sia un sentimento del tutto umano e non la virtù teologica che insieme alla fede e alla carità forma la vita divina e che lo spirito santo trasfonde negli uomini. Questa premessa è importante, perché serve a definire l'orizzonte di senso nel quale si muove il ragionamento di Boff. Teniamola a mente. Quando parla della speranza lo fa da un punto di vista umano e anche formalmente la pone come virtù teologale, ma di fatto la concepisce in una maniera umana e precisamente la collega all'attesa di un mondo migliore qui sulla terra da realizzarsi mediante il lavoro degli uomini. Ora, il sentimento umano della speranza è la cosa più ingannevole e fallace che esista. Quante speranze umane sono destinate a infrangersi, naufragare tutti i giorni? Lo vediamo nella nostra vita, lo vediamo nei calcoli dei potenti, nel destino degli stati e dei popoli. Voler fondare qualcosa di durevole su di essa è una contraddizione in termini. Viceversa, per il cristiano la speranza che viene dalla fede in Dio e che è un dono dello Spirito Santo è come una realtà salda, come la roccia. I cieli e la terra passeranno, ma la speranza non passa così come non passa nulla di quanto viene direttamente da Dio. E già, da questa impostazione iniziale si comprende perché Boff è il vero maestro di Bergoglio, perché gli ha insegnato a pensare il bene, il futuro, insieme delle cose da farsi come concepibili a partire da una prospettiva umana. Ossia, è bene quello che all'uomo appare bene. Giustizia, solidarietà, condivisione, tutte belle cose senza dubbio, ma se pensate come distinte da Dio, come opera dell'uomo, anche queste belle cose finiscono per diventare cattive e la loro attuazione si trasforma in incubo. Il non inginocchiarsi davanti al Santissimo, ma davanti agli uomini, sì e come. Il non recitare il credo neppure durante la Santa Messa. Lo svilire il sacramento dell'Eucaristia, aprendola ai divorziati e risposati. Il parlare con scorcertante e blasfema familiarità rozamente, volgarmente, di Dio Gesù Cristo, la Vergine Santissima. Il dedicare uno spazio autonomo ai temi delle migrazioni, dell'ecologia, ambiente, inquinamento, biodiversità, clima, fino a dedicare a essi gli appositi documenti magisteriali o che vengono presentati come tali, in pratica senza dare spazio alla voce di Dio, senza subordinarli all'amore di Dio, senza trattarli come parte della dimensione soprannaturale cui l'uomo è chiamato. Ecco, tutto questo è pessima teologia, teologia antropocentrica, e viene da padre Leonardo Boff. E come vede il futuro la speranza di cui parla Boff e che solo per un equivoco si potrebbe intendere come speranza cristiana? Lo vede come la realizzazione già avvenuta del regno di Dio, precisamente nei seguenti punti. Uno, nel bene, ma quale bene? Un bene umano al bene cristiano. Due, nella comunione, umana però. Tre, nella fraternità, umana anche questa. Quattro, nella giustizia sociale, da stabilirsi con criteri puramente umani. Cinque, nella crescita veramente umana, dei valori culturali. Sei, nell'apertura dell'uomo al trascendente. Su sei punti, solo uno, l'ultimo, fa un riferimento a Dio, anzi, genericamente al divino. Ma di quale Dio si stia parlando? Non viene detto. Dal contesto potrebbe essere benissimo il Dio di Momento, quello del Dalai Lama, e poi si parla semplicemente di apertura, non di conversione, che è ciò che conta per un cristiano. Convertitevi e credete al Vangelo. Ma questo non è il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Questa non è nemmeno una religione, una qualsiasi religione. Questa è l'agenda dell'ONU, ossia l'agenda della massoneria internazionale. Né più né meno. E il signore argentino vestito di bianco è il suo esecutore. Per questo l'hanno scelto. Fra tanti migliori di noi, più intelligenti, più colti, più preparati, più a modo. Per questo fa le cose che fa, dice le cose che dice e soprattutto tace le cose che omette di dire. È molto probabile che a breve riceverà il premio Nobel per la pace, naturalmente. Lo riceverà dalle mani di una geria massonica, così come ha già ricevuto senza batter ciglio, anzi con evidente compiacimento, il premio Carlo Magno dalle mani di un'altra potente agenzia massonica. E così come non ha trovato niente di strano che i supermassoni del gruppo Bilderberg invitassero il suo segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a una delle loro riunioni annuali. Nel corso di queste riunioni discute una porta chiusa. In ultima analisi decidono i destini del mondo. Come a dire che il Vaticano di questi tempi deve essere considerato a tutti gli effetti, ormai alla luce del sole, una delle maggiori centrali della massoneria internazionale. E a questo punto non c'è neanche bisogno che il Vaticano riteri ufficialmente la scomunica emessa da Clemente XII nel 1738 e in seguito più volte rinnovata ai cari fratelli massoni, come li chiama alquanto familiarmente e affettuosamente il cardinal Gianfranco Ravasi, autorizzando Parolina a recarsi alla sessantesima riunione del Bilderberg, rigorosamente a porte chiuse, rigorosamente senza partecipazione della stampa, come in tutte le altre 59, è come se Bergoglio avesse sdoganato la massoneria tutta intera, lì già al suo motto, abbattere i muri, gettare sempre ponti, in questo caso gettando un ponte dorato verso il peggiore e più tenace fra tutti i nemici della Chiesa Cattolica. Ma torniamo a Leonardo Boff. Nel fare l'elenco dei totalitarismi, come lui dice, profani e religiosi, ha sempre in mente ovviamente l'oppressiva Chiesa Cattolica. Bene, ecco, nel fare l'elenco dei totalitarismi balza all'occhio che non vi figurano nel parxismo, nel comunismo, nel socialismo. In compenso c'è capitalismo e l'inevitabile razzismo. E ci sono tre ismi, domatismo, legalismo, ritualismo, i quali evidentemente si riferiscono alla Chiesa Cattolica, chissà perché non alla religione ebraica o a quella islamica, e guarda caso sono i vocaboli che più spesso ricorrono nei discorsi di Bergoglio quando è vena, cioè quasi quotidianamente, di inveire contro la Chiesa di cui è al vertice, di inveire contro la fede di cui almeno è o dovrebbe essere il vicario di Cristo in terra. E che dire del suo manifesto esplicito relativismo? Afferma che tutto è relativo in questo mondo, se paragonato a Dio e a ciò che ci promette. È relativo alla Chiesa, ai dogmi, sacramenti, le gerarchie, relativi valori culturali e morali. Davvero? Ma è lecito a un sacerdote cattolico parlare in questo modo. Può sostenere tranquillamente che la Chiesa è relativa, i dogmi relativi, i sacramenti relativi e la morale è relativa. Eppure lui lo fa. E lo fa con la tipica astuzia sudamericana, che così bene abbiamo imparato a riconoscere in Bergoglio, di nascondere la mano che scaglia la pietra dietro un espediente dialettico, e cioè dicendo che tutto è relativo se paragonato a Dio. Ah, bella scoperta! Ma se tutto ciò che esiste nel mondo è certamente relativo a paragone di Dio, non è però relativo affatto alla sua parola e la sua Chiesa, la sua dottrina, i suoi sacramenti, la sua morale. No, non sono relativi, per niente. Sono assoluti, perché fondati sulla sua parola, come una casa costruita sulla roccia. Relativi i dogmi, cioè la dottrina. Ma quando mai? Se così fosse, ogni epoca avrebbe la sua dottrina, il suo cristianesimo, il suo Vangelo. Relativi i sacramenti, ad esempio l'Eucaristia. Ma questa è una bestemmia vera e propria. Che cosa intende dire il signor Boff? Che per alcuni c'è la presenza reale, mentre per altri la Santa Messa è solo un'allegoria dell'ultima cena, un simbolo, una commemorazione alla maniera protestante. A ciascuno, secondo il suo estro, ciascuno la pensi come gli pare e piace. Ma che? Questo non è cattolicesimo, questa è una delle tante sette di matrice luterana e calvinista. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Infine, cosa vuole dire? Che ogni epoca ha i suoi valori, la sua morale, che anche per il cristiano bene e male non sono assoluti, sono relativi. Ecco dove porta l'idea tipicamente raneriana e conciliare della storia che si fa chiesa. E non della chiesa che illumina la storia, alla totale storicizzazione della dottrina, della pastorale, della stessa etica. Che dire, infine, del concetto dello humor del cristiano. Humor derivante dalla convinzione che nel mondo non vi sia niente di tragico perché tutto è nelle mani di Dio. Ecco, qui siamo proprio a metà strada tra bestemmia e vaneggiamento. Viene il dubbio che chi scrive quelle cose non sia del tutto in sé. Certo che ogni cosa è nelle mani di Dio esiste, però per volontà e per dono di Dio stesso la libertà umana. E dalla libertà umana deriva la possibilità di scegliere il male anziché il bene, l'ingiusto invece del giusto, il falso invece del vero, il brutto invece del bello. E tutto questo non è terribilmente tragico. Dove vede lo humor il signor boff? Che cosa c'è di humoristico nel peccato originale, nel fratricidio di Abele da parte di Caino, nel peccato in generale? Ma cosa c'è di humoristico nel giudizio di Dio e nell'alternativa per l'uomo tra paradiso e inferno? Cosa c'è di humoristico nel sangue dei martiri, nel calvario dell'anima che si offre volontariamente a Dio in riparazione del male e dei peccati? Ecco, insieme ai maestri alle spalle, non stupiscono le enormità, le eresie, le bestemmie che escono in continuazione dalla bocca del signore argentino che faceva il buttafuori e che adora mangiare la carne cruda, talmente cruda che alla sua ora la quale gli domandava come volesse la bistecca, subito dopo essere stato eletto papa, rispondeva, che mugisca! Bene, cari amici e cari amici, pollice su per il mio lavoro, sempre spiaccicati sul decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.